Onori al gonfalone della provincia di Ravenna, decorato di medaglia d'argento al merito civile. Ricorre oggi il 205esimo annuale di fondazione dell'arma dei carabinieri. Una dedizione verso la nazione e in favore della comunità internazionale. L'attecipazione alle tante vicende umane, spesso difficili e dolorose, nelle quali mi imbattete nelle strade o che bussano alle porte delle nostre caserme. Un'azione istancabile che molto spesso si protrae oltre l'orario di servizio. A servizio dello Stato e delle comunità, di cui è vigile e custode, anche nei luoghi più remoti e isolati della penisola. La provincia di Ravenna, l'arma dei carabinieri, è strutturata su un comando provinciale. Sono schierate le seguenti formazioni. Un picchetto in grande uniforme storica. Le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Forestali, con le rispettive barbiere. Una rappresentanza di 18 comandanti di stazione. Una rappresentanza di 6 militari dei ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri, in uniforme e da ordine pubblico. D'anni di ospite, grazie per la vostra presenza, le conferisce ulteriore competenza e riconosce adeguato valore al prestigianito della 205esima ricorrenza della fondazione dell'arma dei carabinieri. Analogamente all'anno precedente, il pensiero di essere immediatamente indirizzato ai militari in cooperato quotidiano, ha improvvisamente determinato un eccezionale sacrificio personale. Sapere che l'arma esiste tra le località più periferiche e che qualcuno è pronto all'ascolto, di fatto rende continuo lo Stato alle comunità. Permettendo di affrontare le diverse vicissitudini ai piccoli presidi, costantemente nella condizione di ricevere il giusto supporto da quelli dotati di maggiori risorse, laddove richiesto dei bisogni prospettati, assume conseguentemente carattere di centralità il dialogo che si staura tra la popolazione e il carabinieri, il quale diventa il responsabile delle confidenze raccorte e delle iniziative da intraprendere per la gestione delle problematiche esposte, a prescindere dall'età e dalla professionalità maturata. Con il deferente omaggio alla nostra bandiera, rivolgo a loro e agli altri caduti di ogni tempo un commosso riconoscente ricordo. Consegna la ricompensa il signor prefetto di Ravenna, Enrico Caterino. Roberto Sereni Lucarelli. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti